questi video sono praticamente 9 e 18 27 28 anni fa questo è l'abitrone bluco bianco il mio ranger over con il mio precedente gattino curiosissimo un gatto meraviglioso curioso sempre dentro da zero 21 4 mila 991 alle 8 e 40 evicata paurosa a vetrone quando riprodurrò questo video chiaramente non sarà bello però questi carissimi pensieri questi carissimi ricordi sono una beatitudine per me un rinascere questa è la piazza della betona gruppo bianco c'ero un paio di mesi fa ha perso una parte di tutto quello che sto dicendo hanno rimotivato hanno ricambiato tutto quello che era grazie Grazie a tutti Grazie a tutti